Max, quindi possiamo fare... me lo dici tu? Non so quando parli partiti. Molto bene. Max, bella. Allora, fra due minuti e due si parte, non so dove stia andando. Guarda, guarda, guarda che tensione, sono tutti tesissimi proprio. E allora, dieci secondi. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, via! Grandi ragazzi! Lo sappiamo, dopo parliamo, albero in bocca al lupo. Ma che belli, guarda che belli! Siete bellissimi, siete tantissimi, in bocca al lupo a tutti e soprattutto in bocca al lupo a scopa, che è sempre quello che ha bisogno di più, è lui, è quel signore lì.